Amici Trevi Meteo, bentornati a questo aggiornamento delle nostre previsioni per la giornata di domenica. Iniziamo come sempre dall'Europa, alta pressione in gran parte del continente, sole ai bordi di questo anticiclone insistono un po' di nuvole, qualche pioggia e come temperature, valori che si mantengono bassi sull'Europa orientale, invece clima piacevole sulla parte centro-occidentale del continente. Ora passiamo all'Italia, sta una giornata nel complesso buona al centro-nord, ancora un po' di variabilità al sud, Calabria e Sicilia, le due regioni in cui rischiamo ancora degli acquazzoni. Tra poco entriamo nel dettaglio, temperature minime sotto i 10 gradi al nord e nelle zone interne del centro-sud, massimi invece nel complesso piacevoli per lo più tra 16 e 20 gradi. Ora entriamo nel dettaglio, al nord sarà una giornata di bel tempo, con solo qualche nuvoletta di passaggio, attenzione a qualche foschia densa di notte nelle prime ore del mattino in pianura padana. Anche nelle regioni centrali prevediamo ampie zone di sereno e solo qualche addensamento di tanto in tanto, specie nelle zone interne, invece al sud dicevamo un po' più di variabilità, quindi qualche nuvole in più, ma con le piogge che dovrebbero concentrarsi solo tra Calabria e Sicilia e alternate anche a qualche parziale schiarita. Attenzione anche in Sardegna, locali piovaschi pomeridiani. Con questo è tutto, ma state con noi sempre su trebimeteo.com